Questi due giorni di convegno che abbiamo tenuto alla Università Marconi, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche e Politiche in tema di diritto a radicamento nel territorio, abbiamo parlato di globalizzazione e di riglobalizzazione e fin dalla sessione plenaria è emerso chiaramente come sia un tema di grandissima attualità, quindi complessivamente possiamo dire che è un tema che avvia un dialogo, avvia uno studio che è quello poi oggetto del progetto di ricerca del nostro Dipartimento di Scienze Giuridiche e Politiche che dovrà nei prossimi tre anni approfondire e sviluppare molti dei temi, altri se ne aggiungeranno come è emerso chiaramente in queste due giornate di studi e che porteranno sicuramente a dei risultati che sicuramente saranno oggetto di atti che raccoglieremo non solo di questo convegno ma anche di altre iniziative culturali e scientifiche interdisciplinari.